Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi presento una colomma vegana salata come da tradizione non può assolutamente mancare sulla tavola. Ho utilizzato una magnifica farina dell'azienda Molini Amoroso e anche dei pomodori privi di nickel dell'azienda Sfera. Sapete bene che chi presenta allergia al nickel può utilizzare pomodoro, passata di pomodoro che non è stata coltivata a contatto con la terra, quindi in cultura idroponica. Bene, vi lascio come sempre scorrere gli ingredienti in video, vi lascio tutto anche in descrizione per chi segue la ricetta sul mio canale YouTube. Non dimenticate di iscrivervi, di attivare la campanella e di lasciare un like. Alla prossima ricetta! Grazie a tutti!